Musica Buongiorno e bentrovati a voi tutti. Primo appuntamento in diretta con Ora Tg. In apertura quest'oggi la cronaca. Una donna di 86 anni è morta ieri sera dopo un incendio scoppiato all'interno della sua abitazione a Palermo. Sembra che l'anziana sia rimasta folgorata. Ci dice tutto nel suo servizio. Luca Licata Erano passate da poco le 20 ieri sera quando diverse squadre dei vigili del fuoco sono arrivate a sirene spiegate in via Umberto Giordano a Palermo. All'interno di un appartamento situato al primo piano di uno stabile al civico 33 è in corso un incendio. A lanciare l'allarme sono stati i condomini del palazzo che, sentendo puzza di bruciato, hanno contattato il 112. Tre squadre dei vigili sono giunte sul posto in pochi minuti. I pompieri, entrati in azione, sono riusciti ad accedere all'interno dell'appartamento avvolto dalle fiamme per iniziare. Le operazioni di spegnimento, quando il rogo è stato domato, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di una donna, Maria Euliana, di 86 anni, che viveva sola in casa. L'anziana è stata trovata distesa a terra nel terrazzino dell'abitazione. A quel punto è stato richiesto l'intervento dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell'86enne da una prima ispezione della salma. Effettuata dal medico legale, sono emersi evidenti segni di ustione su gran parte del corpo. Secondo una prima, parziale ricostruzione, la vicenda potrebbe essere legata ad un terribile incidente domestico. L'anziana sarebbe rimasta affolgorata nel terrazzino di casa. Le scintille provocate avrebbero innescato il rogo divampato intorno alle 19.30. La vittima, quindi, non sarebbe stata uccisa dal fumo e dalle fiamme. Terminato l'intervento, sono iniziate le operazioni di bonifica e i rilievi per accertare le cause che hanno provocato il cortocircuito fatale alla donna. L'appartamento è stato sequestrato, il personale della scientifica ha effettuato i rilievi, il palazzo non è stato evacuato e non ha riportato danni strutturali. Ad essere intervenute sul posto in serata anche alcune pattuglie della polizia. La strada è stata chiusa al traffico per permettere ai soccorritori di intervenire in sicurezza. Dopo qualche ora è stata riaperta. E la Pasqua ormai è alle porte. Allora si intensificano i controlli nel mirino delle forze dell'ordine, le certificazioni di qualità delle materie prime utilizzate per i prodotti che poi finiscono sulle nostre tavole. Mentre i carabinieri del NAS comunicano notevoli sequestri di prodotti dolciari, una storica azienda del territorio già rese ci ha aperto le porte. La sicurezza e la bontà alimentare dei prodotti dolciari. Quelli pasquali in questo periodo sotto l'occhio attento delle forze dell'ordine. Nel giorno dei bilanci istilati dai carabinieri del NAS che in tutta Italia hanno sequestrato merce industriale spacciata per artigianale, con date di scadenza ritoccate o ancora custodite in magazzini in condizioni igienico-sanitarie precarie. Solo nel Catanese oltre 1.400 kg di prodotti sottratti all'acquisto di ignari consumatori, una storica azienda del settore, da oltre mezzo secolo attiva nella produzione di queste prelibatezze alle falde del vulcano, apre le porte dei suoi locali. Qui, come in molte altre realtà isolane, la parola d'ordine è trasparenza. Oggi i consumatori sono sempre più attenti e riconoscono il giusto rapporto tra qualità e prezzo di un settore come quello del cacao per la realizzazione delle uova, che nel solo ultimo anno ha registrato aumenti del 50%. Diciamo che la nostra azienda, fra innumerevoli difficoltà, come tutte le aziende che oggi si occupano di produzione alimentare, riesce in qualche maniera a stare sempre sul mercato. E' chiaro, i costi sono aumentati veramente in maniera esponenziale, però essendo una fabbrica che riusciamo in qualche maniera a stare dietro al mercato, sostanzialmente per accontentare tutti i nostri clienti. Poi alla fine diciamo che la ricchezza di un'azienda sono i clienti. Partiamo anzitutto da una rigorosa selezione delle materie prime. Tutti i nostri fornitori ci garantiscono la provenienza di quello che ci vendono. Anche noi come azienda ci siamo dotati nel tempo di numerose certificazioni, anche a livello internazionale, che sono assolutamente una garanzia di salubrità del prodotto, anzitutto per il consumatore. Cosa bisogna diffidare, ad esempio? Da prodotti che in etichetta non hanno delle descrizioni molto chiare. Il nostro sistema di controllo interno veramente riesce a rintracciare ogni singolo elemento di cui è composto il prodotto. Quindi questo già ci permette, ripeto, di dare al consumatore quella garanzia che oggi è molto importante. La storia dell'economia ci ha insegnato che il consumatore ogni anno diventa sempre più capriccioso e vuole le novità. E si riesce, nonostante il mantenimento di una tradizione, a portare delle novità appunto che attragano sempre di più l'acquirento? Assolutamente sì. Lei ha detto bene. I nostri sono dei metodi di produzione ancora tradizionali, anche se meccanizzati, perché comunque i tempi lo richiedono. E ogni anno diciamo che i nostri messi cioccolatieri si mettono all'opera per, come dire, trovare sempre dei prodotti nuovi. Ad esempio quest'anno abbiamo un prodotto che sta andando molto bene e che incontra soprattutto il gusto dei giovani, che è un uovo al caramello. È un uovo veramente molto particolare perché il cioccolato è già proprio fatto con il caramello e poi fuori è pralinato con un cramolo al caramello. Gusti nuovi, il cioccolato al rum piuttosto che quello alla pera. Digliamo che ogni anno cerchiamo di dare ai nostri clienti dei prodotti sempre nuovi. Intanto a San Cristoforo una sala giochi priva di autorizzazione è stata sanzionata dalla Polizia di Stato. Gli agenti della squadra amministrativa della Questura di Catania hanno individuato e controllato la sala pubblica da gioco durante le verifiche effettuate con l'ausilio degli agenti della volante del commissariato San Cristoforo sono state identificate e controllate 16 persone presenti all'interno del locale. È emerso che la sala giochi operava in assenza di qualsiasi autorizzazione e regolare licenza. Sono stati pertanto sequestrati amministrativemente sei apparecchi elettronici da gioco del tipo slot machine privi di autorizzazione ed elevate sanzioni per un montare totale di 67 mila euro per gli apparecchi non collegati alla rete telematica dello Stato, per non avere il regolare nulla osta rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e per la mancanza della licenza di sala pubblica da gioco. E regole per mantenere la sicurezza anche a Palermo in vista delle eminenti festività pasquali il sindaco Roberto Lagalla ha emanato un'ordinanza che prevede il divieto di arrostire e di accendere fuochi all'interno del parco della Favorita. Tutti i dettagli nel servizio di Luca Licata. Come l'anno scorso, anche quest'anno, in vista delle festività pasquali, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha emanato l'ordinanza che preclude di fatto la possibilità di organizzare scampagnate nel parco della Favorita. Il provvedimento, nello specifico, prevede il divieto assoluto di accendere fuochi e fare uso di fornelli, non solo nell'area della Favorita, ma in tutta la riserva naturale di Monte Pellegrino. L'ordinanza, si legge nel documento, è finalizzata a prevenire il pericolo di incendi, nonché l'abbandono di rifiuti e il danneggiamento dell'area protetta tutela dell'ambiente naturale. La Polizia Municipale, insieme agli uomini dell'Associazione Rangers d'Italia, si occuperanno di far rispettare i divieti. Le regole stabilite nel provvedimento non riguardano soltanto le feste legate alla Pasqua. Saranno valide, infatti, anche il 25 aprile, giorno in cui ricorre la Festa della Liberazione e per la Festa del Lavoro il primo maggio. Quest'anno non ci sarà una chiusura totale della Favorita. Palermitani e turisti potranno accedere all'interno del parco per una passeggiata e per godere dei punti panoramici. La fruizione è consentita per il classico picnic. Potranno essere utilizzate le panchine e i tavoli per mangiare solo cibo già pronto, precisa l'ente gestore della riserva. Lungo i viali della Favorita saranno sistemati due cassoni della RAP e uno sulla zona di Monte Pellegrino per il conferimento dei rifiuti. Il provvedimento, hanno sottolineato il sindaco Lagalla, insieme all'assessore Alverde, Pietro Alongi, rappresenta un responsabile atto di civiltà e di rispetto verso le aree naturali e polmoni verdi della nostra città. L'auspicio è che ci sia da parte dei palermitani quel senso di responsabilità che già lo scorso anno, in occasione di queste stesse festività e del Ferragosto, si è manifestato in maniera più sensibile rispetto agli anni passati. Restiamo a Palermo. Fuochi d'artificio illegali. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo hanno sequestrato 14.000 artifici pirotecnici rinvenuti all'interno di due spedizioni provenienti da Napoli. I militari nel corso dei controlli su alcuni carichi provenienti dal capologo partenopeo hanno notato la genericità dei dati riportati sulle bolle di accompagnamento. I controlli eseguiti dalle fiamme gialle hanno consentito pertanto di individuare, in due diversi carichi complessivi, 560 kg di materiale esplodente suddiviso in 140 batterie da 100 lanci ciascuno. È stato identificato anche il destinatario di una delle spedizioni e denunciato per aver messo in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti ricevendo del materiale altamente infiammabile e potenzialmente esplosivo senza le prescritte cautele e norme di sicurezza. Ed ancora cronaca, i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti per un incidente stradale sulla tangenziale del capologo Etneo in direzione Siracusa tra lo svincolo di San Gregorio e quello di Gravina di Catania come vedete nell'immagine all'interno di una galleria nel violento impatto sono rimaste coinvolte tre autovetture fra cui una Fiat 500 con all'interno una ragazza di 25 anni incinta rimasta incastrata tra le lamiere che ha riportato fratture agli arti inferiori. Nelle altre auto c'erano una donna con due bambini e nell'altra ancora altre tre persone a bordo tra cui una coppia di anziani. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta ha operato insieme ai sanitari del servizio 118 per estrarre la ragazza dalle lamiere. Sul posto sono intervenute tre ambulanze che hanno portato tutti coinvolti in ospedale presente personale della polizia stradale dell'ANAS. E ancora incidenti, ce n'è stato un altro questa mattina in Viale Kennedy lungomare della Playa Catania. Per caso ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate una di esse si è anche, come vedete nell'immagine, ribaltata, andata a sbattere contro un muretto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale del capologo TNO per la gestione della viabilità ai sanitari del 118. L'incidente ha causato dei feriti che sono stati portati in ospedale. Non si conoscono al momento le loro attuali condizioni. Cambiamo adesso decisamente argomento perché la Sicilia è stata esclusa dal decreto del superbonus riservato ai territori terremotati. Però il commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma dell'area TNO Salvatore Scalia si è attivato ed ha ottenuto delle rassicurazioni in merito. Ci dice tutto nel suo servizio Salvo Cutuli. La paventata sospensione del superbonus ai terremotati del Catanese mette a rischio quanto fatto sino ad oggi nella ricostruzione dei comuni a nord dell'area metropolitana TNO. Dal Consiglio dei Ministri via libera, 400 milioni per il fabbisogno dei territori devastati dal terremoto del centro Italia scomparsa dal decreto alla Sicilia. Il commissario straordinario per la ricostruzione Salvatore Scalia di Buonmattino ha avviato una fitta interlocuzione con i dicasteri romani competenti per chiedere delucidazione e spronare la deputazione siciliana ad attivarsi in favore dei terremotati delle nuove municipalità colpite dal sisma della notte di Santo Stefano del 2018. Da Roma il commissario Scalia ha catturato l'attenzione del Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci e del parlamentare Manlio Messina che hanno assicurato il massimo impegno istituzionale sulla questione che rischia di penalizzare tanti proprietari danneggiati dall'evento tellurico di sei anni fa. Un calvario che ha subito danni adesso teme la cancellazione degli aiuti promessi. Il pressing verso i palazzi del potere romano è stato avviato con successo e lascia aperta più di una porta al riconoscimento dei fondi anche per la Sicilia. Il commissario Scalia stamani ha riunito il suo staff e comunicato tramite video messaggio veicolato attraverso la piattaforma Whatsapp ai comitati dei terremotati che ha intrapreso per scongiurare ogni ipotesi di esclusione. È tutto in itinere, è tutto da vedere. Non c'è la Sicilia perché si è ritenuto da parte di qualcuno di dire che la Sicilia aveva soldi sufficienti per provvedere a tutto il che ovviamente non è vero. Io infatti invito coloro che hanno in corso o intendono avanzare domanda di sisma bonus a telefonare immediatamente. Immediatamente significa martedì, mercoledì per sapere che la loro intenzione di richiedere il sisma bonus di quanto si tratta perché il governo mi ha richiesto di comunicare quale sarebbe l'entità del sisma bonus che eventualmente i terremotati siciliani potrebbero utilizzare. Quindi è urgente che ci comunichino questi dati. Noi siamo in contatto con il ministro Musumeci, ultimamente ha telefonato proprio per questo l'onorevole Emanlio Messina. Noi stiamo combattendo per evitare che si venga esclusi dal sisma bonus. Comunque sicuramente per coloro che hanno già presentato la domanda ovviamente la legge non è efficace e retroattiva. Quindi questo vale soltanto per quelli che ancora devono presentarla, per quello che mi si dice in sede governativa. Adesso andiamo a sentire quali sono le idee e i programmi della neopresidente designata Confindustria Catania, Maria Cristina Elmi Busi, una donna affermata, un'imprendicice già al comando di Seabeg Coca-Cola. La sua elezione ufficiale è prevista all'inizio di maggio. Francesco Larosa. Maria Cristina Busi è stata designata nuovo presidente di Confindustria Catania. Il Consiglio Generale, infatti, ha indicato l'attuale presidente di Seabeg, l'azienda che produce in bottiglie e commercializza i prodotti a marchio Coca-Cola. Per l'importante ruolo, Cristina Busi è la prima donna designata alla carica picale dell'Associazione Etnea, sin da quando fu costituita nel lontano 1926. Può vantare una lunga e qualificata esperienza, sia in ambito nazionale che internazionale, essendo stata vicepresidente di Confindustria Catania, nonché presidente della sezione alimentari. Più altre importanti cariche. Nello scorso mese di dicembre, Cristina Busi è anche presidente della Camera di Commercio Italo-Albanese e vice del Comitato Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania. L'itere statutario adesso prevede che il Consiglio Generale dovrà esprimere le proprie voto a favore dei vicepresidenti scelti dalla neopresidente il prossimo 23 aprile, quindi nel mese di maggio. Sarà ratificata l'elezione della nuova presidente Busi. Catania, direi che dal punto di vista industriale, è sicuramente la città più importante della Sicilia. Perciò noi dobbiamo avere una reazione notevole di crescita, aumentare i nostri associati, perché anche quello è un numero importante, aumentare i servizi che diamo regolarmente, che sono già notevoli, ma si può fare di più. Avere un'attenzione particolare per la città e poi per la zona industriale che naturalmente necessita di un rinnovamento. Abbiamo delle aziende importantissime che credono nella Sicilia, che credono in Catania. Dobbiamo rispettarle al massimo, perché se vengono a investire da noi è giusto che trovano l'ambiente adatto al loro investimento. L'elezione avverrà nei primi giorni di maggio, ma le linee programmatiche sono già chiare? Le linee programmatiche sono chiare, c'è solo da migliorare, perché il programma noi l'abbiamo fatto sulle grandi base, sulle grandi linee, ma ci sono magari delle emergenze. Ad esempio, un argomento al quale io ci tengo particolarmente è l'argomento incendi, agosto è qua che arriva. Per cui ci sono le emergenze veloci, quelle per le quali bisogna mettersi a tavolino a tempo molto rapido e trovare delle soluzioni, delle soluzioni intelligenti e pratiche. Il suo è un profilo di esperienza, ma al tempo stesso anche di grande innovazione? Beh sì, perché il mondo cambia, i tempi non ci consentono di restare indietro. Per cui la mia esperienza che ho fatto in tutti questi anni di Confindustria, sia qua che in Albania, non può essere ripetitiva. Quello che è stato fatto, benissimo, è stato fatto. Adesso bisogna affrontare le novità e le cose importanti, che sono tante. Io credo moltissimo nel sud dell'Italia che è molto maltrattato, è sempre stato maltrattato e questo non è corretto, perché invece è un patrimonio importantissimo per l'Italia. Va capito e bisogna farlo capire, non solo la Sicilia, ma tutto il sud. Rimaniamo nel territorio di Siracusa per una notizia. Teneva scimmie e pappagalli nel recinto di case. I carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, insieme ai militari dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia e del nucleo CITES di Catania, hanno denunciato un 35enne per detenzione di animali di specie protetta a seguito di perquisizioni nei pressi della zona portuale di Portopalo di Capopassero, all'interno di un'area recintata dove ci sono una villetta e diversi immobili. I carabinieri hanno trovato animali esotici in cattivo stato di conservazione, rinchiusi i recinti fatiscenti e maleodoranti. I carabinieri forestali CITES hanno sequestrato una scimmia, appartenente alla specie dei Clorocebus pigeritrus, un pappagallo appartenente alla specie degli Ara Macao e quattro tartarughe delle famiglie Orsfieldi e Testudo Ermani, tutti animali di specie esotica detenuti illecitamente. Il 35enne è stato denunciato, mentre gli animali saranno ricollocati in centri specializzati e autorizzati alla custodia di specie protette. Torniamo adesso a parlare di pedonalizzazione a Catania, perché da domani sarà pedonalizzata la piazza San Francesco, così scatta la protesta di commercianti e residenti. Il piano di mobilità sostenibile adottato dall'amministrazione Trantino dopo la pedonalizzazione di piazza Mazzini tocca a piazza San Francesco, più nota tra i catanesi, come piazza Cardinale di Usmet, un provvedimento pensato per creare una sorta di corridoio libero dal caos veicolare e assicurare una migliore fruibilità pedonale ai catanesi e ai tanti turisti che affollano la città, così da poter ammirare le bellezze barocche nel cuore storico del Capologhe Teneo, via Cruciferi, piazza San Francesco e giù, sino a piazza Mazzini ai quattro canti. Da domani verranno collocate le fioriere per impedire il passaggio dei mezzi motorizzati e stabilito un percorso alternativo. La decisione è subito scatenato, le ire dei ristoratori e dei residenti, anche il Movimento Popolare Catanese si schiera a fianco dei commercianti della zona e invita l'amministrazione a prendere atto delle conseguenze disastrose delle loro azioni, si legge in una nota diffusa alla stampa. Nei prossimi giorni è previsto anche un zitino di protesta, tra quanti si dicono fortemente contrariati, dalla decisione di pedonalizzare un'area senza un'alternativa valida, dalla mancanza di parcheggio ai servizi di trasporto pubblico carenti. Non solo chi commercia in questa zona si dichiara perpresso, ma anche i residenti si dicono preoccupati. È vista con spavore perché blocca, blocca tutto, blocca il traffico, blocca, blocca, specialmente noi del centro storico non ci possiamo muovere più. Solo questo. Ma non è anche un segno di civiltà pedonalizzare le aree artistiche? È un segno di civiltà, però è un segno di civiltà magari poter fare passare le persone con le macchine che stanno qua. Lei cosa ne pensa? Beh, io comunque sono di un altro quartiere, però da un certo punto di vista potrebbe essere corretto, da un altro un po' meno perché comunque, come diceva l'amico, non evita di far passare, di esserci molta confusione nel centro storico, dare la possibilità ai pedoni di poter vedere le bellezze che noi abbiamo nella nostra città, però implica molti livelli di chiusura perché non dà modo di potersi muovere con facoltà, non ci sono i mezzi pubblici che aiutano su questo punto di vista. Sicuramente sì, è un problema grosso di parcheggio, non sappiamo dove parcheggiare la macchina, cioè è veramente una grossa difficoltà, sarebbe una cosa carina, sì, perché diventando pedonale ci saranno più passanti, le persone stanno più serene per strada, questo senza dubbio, però in questo punto specifico, secondo me, diventa veramente complicato gestire le attività. Ed un forte terremoto di magnitudo 5.8 è avvenuto nella costa occidentale del Peloponneso in Grecia, l'evento si è verificato alle 8.12, ad una profondità di 33 chilometri, come rilevato dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa, in Puglia ed in Calabria. L'epicentro del terremoto è stato localizzato in mare, a 25 chilometri ad est di Strofadi, nessun danno registrato nel Catanese. Anche in Grecia al momento pare non ci siano stati delle gravi conseguenze, poiché la zona dell'epicentro appunto si trova in mare. Adesso cambiamo argomento, siamo allo sport, il calcio, il Catania precipita sempre di più, battuto in casa dal Giuliano è sempre più a rischio di play-out. E' un encefalogramma piatto, quello della Catania, sconfitto una volta di più in casa, dalla Giuliano che si conferma squadra ambiziosa all'interno della griglia play-off. Eppure il match per gli uomini di Zeoli si era messo nelle migliori dei modi, con il gol di Cianci, dopo poco più di un minuto, Abile il centravanti a deviare di testa e rete le cross di Peralta. Per tutto il primo tempo, gli ospiti badano soprattutto a controllare, pur confezionando una grande occasione, sventata da Furlan, che si esalta sulla deviazione ravvicinata di Salvemini. Il Catania sembra in assoluto controllo, ma all'inizio del secondo tempo è quelle patatracche che condiziona l'esito del match. Salvemini tocca il pallone di punta, Furlan questa volta si fa sorprendere, il pallone gli passa sotto le gambe e i campani pareggiano. La squadra rossa-azzurra va completamente in bambola, perdendo fiducia e la giusta condizione mentale. Nasce addirittura da un fallo laterale, il gol che porta in vantaggio gli ospiti con Ciufferri, che approfitta ancora dell'indecisione della retroguardia etternea per deviare in gol il pallone dell'1-2. Il Catania a questo punto ha un sossulto d'orgoglio e in appena due minuti riesce a recuperare il risultato quando Cicerelli affonda sulla sinistra e sulla sua cross, Boat interviene d'anticipo, sbattendo rabbiasamente il re del gol del due pari. Il Giuliano gioca meglio, il Catania fa quel che può. Welbeck ha una buona opportunità, ma il secondo portiere del Giuliano, appena entrato in campo al posto di Russo infortunato, si esalta sulla sua conclusione, deviandolo in tuffo dal possibile vantaggio rossazzurro. Il Giuliano trova lo spunto decisivo per portarsi a casa i tre punti sul lungo cross di Giorgione. Infatti, la difesa etternea è poco reattiva e Salvemini la beffa per la seconda volta in serata, deviando di nuca alle spalle di Furlan. Motura così un 2-3, che lascia tanto amare in bocca, Cicerelli si fa anche espellere, mentre Rapisarda cerca inutilmente un contatto in aria con l'arbitro che sorvola. La vittoria va agli ospiti, per il Catania è sempre più notte fonda. Martedì si torna in campo, sempre a porte chiuse, contro il Padova per la finalissima di ritorno della competizione tricolore, con una condizione mentale però fortemente condizionata dalla concreto rischio play-out. E intanto Michele Zeoli non si rassegna, la situazione del Catania è difficile, afferma il tecnico, ma io non mollo. Noi a livello mentale stiamo andando indietro e gli altri invece sono più liberi, più vogliosi. Io sono preoccupato perché ho chiara la situazione, però ripeto, mi aspetto di... Cerco di usare i termini giusti, se no vengo frainteso. Se a fine primo tempo vinciamo 1-0, sappiamo quello che abbiamo passato, quello che stiamo passando. Si ripete ad alta voce, si dice guardate che ce l'abbiamo su un piatto d'argento, andiamocelo a prendere. Dopo un minuto e mezzo abbiamo subito il gol. Dunque, se tu mi dici a me qual è la soluzione, io posso fare moduli, tattica, gioco, cambia. Così ammazza anche l'elefante. A me non mi ammazza perché io so che non bisogna mai mollare, ma mai, mai, mai. Vediamo i giocatori che pensano, che è chiaro che parlare di positività, se pensiamo alla Coppa Italia, martedì, al fatto che ci sta tutta, però poi la squadra i punti li deve fare e allora diventa tutta positività. è il pensiero più più difficile e anche dare una spiegazione perché comunque sia pensare martedì al Padova quando un'ora fa avevamo la possibilità di muovere la classifica è difficile, però bisogna affrontare le cose, penso, di petto, con orgoglio, con tante cose che mi verrebbe da dire, però mi tengo un attimino perché eravamo a un passo da quella serenità che stiamo cercando da tanto tempo e quella è la cosa che in questo momento mi dà più fastidio perché quelle cose vanno difese in tutti i modi. La nostra pagina di medicina è stato siglato a Palazzo d'Orlean un protocollo d'intesa tra l'Arnas civico di Palermo e l'ISMET finalizzato a ridurre le liste d'attesa dei pazienti pediatrici del Di Cristina. La convenzione prevede la presa in carico immediata da parte dell'Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione di 92 bambini in attesa di un'operazione chirurgica alla parete addominale. Gli interventi dopo una prima valutazione clinica dovranno essere effettuati entro il 30 giugno di quest'anno lo dice la regione siciliana a firmarlo il presidente Renato Schifani il dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica dell'assessorato regionale della salute Salvatore Iacolino il direttore generale dell'Arnas civico Walter Messina e il direttore dell'ISMET Angelo Luca si rafforza il nostro impegno per risolvere il problema delle liste d'attesa afferma Schifani e quello di oggi è sicuramente un risultato importante perché ci permette di garantire ai piccoli pazienti cure di altissima qualità grazie ad un centro di eccellenza come l'ISMET che con la regione ha un rapporto ormai consolidato il numero delle prestazioni effettuate dell'ISMET sarà comunicato settimanalmente all'assessorato regionale della salute il protocollo avrà validità sino all'azzeramento delle liste d'attesa la collaborazione con l'istituto rientra nelle previsioni del piano operativo del recupero delle liste d'attesa con un budget di 48 milioni e mezzo di euro per il 2024 a disposizione ulteriori 41 milioni anch'essi ripartiti tendenzialmente a metà fra pubblico e privato convenzionato dice la regione Proprio di trapianti si parlerà questa sera su ReTV la nostra rubrica di approfondimento medico-scientifico a cura del dottor Riccardo Castro per la regia di Paolo Coco dei vari aspetti riguardanti i trapianti interventi molto delicati prestazioni sanitarie che rientrano nei livelli essenziali di assistenza ILEA parleremo con l'ospite studio il dottor Giorgio Battaglia direttore del centro regionale dei trapianti appuntamento dunque questa sera alle 21.30 su ReTV con medicina e innovazione in replica domenica alle 21 e mercoledì alle 22 Dopo questa notizia noi ci fermiamo ma solo per qualche minuto di pubblicità a tra poco Ed eccoci di nuovo in studio bentornati non ci sono notizie dell'ultima ora da parte della redazione è arrivato dunque il momento di scoprire insieme che tempo farà domani Le previsioni meteo di domani sabato 30 marzo in Sicilia l'anticiclone africano raggiungerà l'isola portando il sole su tutto il territorio il cielo sarà ampiamente soleggiato a tratti poco nuvoloso i venti soffieranno deboli i mari come vedrete saranno calmi un'occhiata adesso alle temperature le massime raggiungeranno i 23 gradi nei territori di Palermo e Siracusa si toccheranno i 21 nel capologo etneo più o meno stazionari i valori notturni la minima più bassa si raggiungerà ad Enna con 6 gradi bene con il meteo si conclude qua questa prima edizione di Oratg ma vi ricordiamo che il secondo appuntamento con l'informazione torna puntuale questa sera alle 19.45 grazie come sempre per la vostra preferenza un buon pomeriggio a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti